Mondo Fitness, 12 settembre 2014, mi trovo con la presentatrice di questa grandissima giornata di solidarietà per qualcosa di molto importante per i bambini, raggiungere l'obiettivo per acquistare questa MOC da donare all'Umberto I. Eccomi qui con Cristina Roncalli. Cristina, tu hai presentato la serata, abbiamo visto tantissime persone che hanno contribuito veramente con il cuore e non solo a questo evento. Ci tende a ringraziare gli ospiti che appunto hanno partecipato, oltre agli ospiti che hanno un nome e un cognome illustre, ci tengo veramente a ringraziare di cuore le persone comuni, quelle che in silenzio hanno fatto una donazione importante per la nostra causa. Ecco, anche loro è importante, sia quelle di nascosto sia quelle che invece hanno dato anche la visibilità, perché tante volte serve anche la visibilità. Abbiamo visto moltissime persone importanti, il dottor Bocci, abbiamo visto il presidente dell'associazione. Esatto, abbiamo visto Fabrizio Frizzi, Beppe Signori che ha donato le sue scarpette per l'asta di beneficenza ed è arrivato da Bologna apposta per questo motivo. Ringraziamo veramente tutti, sarebbe una lista lunghissima, quindi ringrazio tutti di vero cuore. Che sensazioni, che emozioni hai? Solitamente quando presento un evento non sono tanto emozionata, ma per questo, essendo che ci ho messo il cuore, hai fatto un'emozione veramente grande. Perfetto, io ti ringrazio del tuo contributo. Grazie. Mondo Fitness, News 25, Cristian Paoloni. Cristina Roncalli. Da un momento è tutto, ciao.